E' aperto? Eh, vado! Ehi, vado? Eh, va, va! Eh, ma dove vuoi andare? Ah, non so mica dove vuoi andare. Su ebay o vuoi andare? Ah, sì! Allora, per andare su ebay, la roba ideale, sarebbe fare un google. Ti fai un google e ti fai su ebay. Cosa stai cercando? Google, panciera, panciera. La panciera, allora. Fa un google, ti scrivi panciera? Fa un google, sta a dirmi, fa un google. Mi viene nervoso. Mi viene nervoso. Allora ti fai un google. Dimmi, come? Dimmi, devi andare qua? Sul panino? Cosa è lato qua? No, sulla bala? Allora, ti fai andare. Sì, va qua. Ti versi. Devi collegarti su internet, no? C'è no? Un cuniccio lì? Sulla bala, sulla bala. Un cuniccio, non è la bala. Non è la bala, non è la bala. Sì, è una bala. Eccolo là. Bene. Fa il google. 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 Scrivi quel che ti hai da scrivere. Google. È già google? È già google. L'ho già fatto google? È google. Eh sì, è google, sì. E-bay. Scrivo ebay. Scrivi ebay. E-bay o panciera? E-bay scrivi. E-bay. 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 Ecco. Non fuori niente qua. Non fuori anche a massa. Fa scori scori scori. Eccolo là, eccolo là. Clicca là. Clicca là. Clicca là. E-bay. 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 Il tuo panciera? No, ci sono già sulla panciera. Ti chiedo a far un'offerta. Però bisogna avere l'account dell'eBay, tu l'account, ti chiede l'account? Qua? Eh, se ti chiede... Ma tu non è la verità, ho la borsella. Allora bisogna avere la chiave di accesso per entrare nel... La è solo la chiave? La chiave della... No, la chiave, cosa capisci tu cosa? La chiave di accesso per entrare dentro nel... Ebay? Eh, bisogna, mica tutti puoi entrare, bisogna iscriversi, no? Ma non è che Giovanni, no? La chiave di accesso, dai, so... La chiave, sarà una parola? C'è un caso di panciera, è possibile? Ti avevo solo la lana, come... Ora ho 70 anni che ho fatto la panciera là, ma questa mi viene fuori a te... Se ti vuoi risparmiare... Eh, risparmiare... Risparmiare nervoso... Dai, dai, dimmi questo... Ci sarà anche lana? Fa un Google, scrivi Anna lana... Dimmi che cosa vuoi fare adesso? Ma dell'ana o la panciera? Ma per me non vuoi lana? No, lana, lana... De lana, dell'ana... De lana... No, lana... E poi per la lana... Di lana... Dimmi ora... La panciera di lana... De lana... De lana... De lana... Tu vuoi descrivere panciera di lana? Ascolta, faccio così... Vado giù e domando direttamente a lana... Come che vuoi scrivere su ebay... Per comprare una panciera da ella... Vado fuori da qua? Eh? Vado fuori? Va fuori... Vado fuori da... 義 Board he, va fuori da... Vado fuori da qui... In quanto veico? È qua. E dove vai? e quante